Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video aprirò due pacchetti di Vanguard e tre pacchetti di Dragon Ball. Le due espansioni sono queste qua, Extra Collection 4 per Vanguard e questa qua per Dragon Ball, penso sia la prima. Cioè la prima o comunque una delle prime edizioni di Laming Cards di Dragon Ball, ma penso la prima. Comunque quelle col bordo rosso. È stata davvero un'emozione riaprire tre pacchetti con le edizioni di Dragon Ball perché veramente le Laming Cards erano la mia infanzia, le Laming Cards di Dragon Ball erano veramente la mia infanzia. E quindi vabbè, un monte di ricordi. Tra l'altro i pacchetti costavano un euro raga, un euro. Bellissimo veramente. Poi c'erano quelle che brillavano, erano bellissime. Raga, guardate il video per capire. Guardate tutto il video. Prima aprirò i pacchetti di Vanguard e poi i pacchetti di Dragon Ball. Detto questo, come al solito ricordatevi di lasciare like, commentare ogni video e iscrivervi al canale. Attivate la campanellina se vi va e passate la pagina Instagram, la trovate qua sotto in descrizione. E niente, spero davvero che il video vi piaccia e buona visione. Ok, ecco i pacchetti di Vanguard e di Dragon Ball. Vanguard, come vedete, è questa espansione qua. E Dragon Ball questa qua. Non mi ricordo, sinceramente, le carte si trovano dentro, però queste qua costano un euro. E queste qua, che costano tre euro, le trovate a due euro e cinquanta. Dentro ci sono cinque carte, per chi non lo sa. Comunque adesso vedrete tutto. Direi di partire con quelli di Vanguard. E dopo apriremo anche quelli di Dragon Ball. E cambierò anche il playmat, almeno ci sta di più. Direi di andare subito col primo pacchetto. Questo mettiamolo qua. Speriamo di avere fortuna, raga. Vi ricordo, c'è almeno una rara per pacchetto. Possono esserci rare, doppie rare, triple rare o SP. Speriamo SP. Questa espansione è principalmente per il triangolo delle Bermuda. Se giocate il mazzo triangolo delle Bermuda, compratevi i pacchetti di questa espansione perché vi serve. Allora, qua c'è la rara. Andiamo a vedere. Questo è Palladino Ombra. Ecco, appunto, vedete il triangolo delle Bermuda. Un altro triangolo delle Bermuda. Un Genesis. E vediamo la rara. Una semplice rara. Grado 2, molto carina. Palladino Ombra. Perfetto, ci sta, dai. E questo adesso le metto qui. E andiamo col secondo pacchetto. Vediamo un po', allora. Speriamo, allora. Speriamo, ragazzi, di trovare o una triple rara, la SP. Ormai non ci spero più. L'ho trovata una volta ma non ho nemmeno esultato perché non sapevo fosse una SP. E non sapevo fosse così rara. Allora, andiamo a vedere. Apriamo. Oggi sono stato abbastanza fortunato con gli spacchettamenti perché ho anche aperto il sarcofago d'oro. Tanta roba. Vediamo cosa c'è adesso. Allora. Questo è subito triangolo delle Bermuda. Palladino Ombra. Genesis. Triangolo delle Bermuda. La rara è? Un'altra rara che tra l'altro ho già trovato in uno scorso spacchettamento. Beh, dai, ci sta. Comunque, due rare normali. Diciamo non abbiamo trovato niente di che. Comunque adesso leviamo tutto. E passiamo a Dragon Ball. Cambiamo anche Playmat. E mettiamo il Playmat di Dragon Ball. Perfetto. Andiamo appena in Playmat di Dragon Ball. Tra l'altro, vecchissimo quando c'era l'espansione di energia segreta 2. Non uso quelle di Dragon Ball Super perché, vedete, questo è un Dragon Ball Z, quindi ci sta di più. Bellissimo, tra l'altro, Goku contro Majin Buu. Vedete, quando il campo era ancora così col vecchio gioco di Dragon Ball. Bellissime, ragazzi, veramente. Quelle che con le carte con la lucina si vedeva l'energia. Bellissime. Allora, direi di partire. Questi qua sono i tre pacchetti. Partiamo con questo. Anzi, questo lo aprirò per ultimo, ma lo... Cioè, guarderò per ultimo le carte, ma lo apro adesso. Ok, cerchiamo di conservare le bustine. E adesso questo lo tengo qua. Aprirò questo e adesso questo. Vediamo un po'. Probabilmente non c'è niente. Radish. Laura Bionda. Giniu. Zarbon. E Yanko. Ok, penso all'espansione più vecchia, questa qua con il bordo rosso. Vedete, questo bordo qua rosso. Ok. Andiamo a vedere adesso quest'altro pacchetto. Poi tra l'altro sono trasparenti, quindi si vede che in fondo c'è una rara. E più che altro sono tutte rigirate, cioè alcune sono messe sotto sopra... Vabbè, non ho conservato bene il pacchetto, non importa. Andiamo a vedere. Gohan. Laura Bionda. Giniu. Cioè, il pacchetto praticamente uguale a prima. Zarbon. E Yanko. Cioè, a parte la prima carta, tutto è uguale a prima. Tutto uguale. Perfetto. Va bene. Perfetto, mica tanto però. Ok. Andiamo a vedere adesso l'ultimo pacchetto. Speriamo almeno in una foil. Andiamo a vedere. Uh, vedo una foil. Junior. Krili. Fra tutte quelle che potevano esserci, Krili. Però va bene, molto bella, col cerchio magico. Nail. Figo. Krili, con tutte queste cose qua sotto. E Gohan. Eccolo qua. E niente, direi che comunque il pacchetto che pensavo fosse il più fortunato, è stato il più fortunato, perché comunque abbiamo trovato una foil. E nulla, queste qua sono le carte di Dragon Ball. E poi vi ho fatto vedere anche quelle di Vanguard. Spero che vi siano piaciute queste carte. E questo spacchettamento. Io raga, spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Mi è piaciuto un sacco registrarlo e aprire questi pacchetti. Davvero. E' stato emozionante, ecco. Ovviamente anche se non abbiamo trovato praticamente niente di che, per me sono carte bellissime. Spero che questo video vi sia piaciuto anche a voi. Nel caso lasciate like, commentate, individete e iscrivetevi al canale. E attivate la campanellina. Passate dalla pagina Instagram, mi raccomando, è importante. La trovate qua sotto in descrizione. Comunque, makiml.official, tutto minuscolo. Scrivetemi che video vi piacerebbe vedere qua sul canale. E io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao raga.